Questa settimana a Strasburgo sono partite molte iniziative, ve ne voglio raccontare una che ritengo molto molto importante. È iniziato il dibattito sulla comunicazione della Commissione europea e che il nostro Paolo Gentiloni ha rilasciato la settimana scorsa sulla revisione delle regole economiche dell'Unione europea. Che cosa significa? Significa che si è aperto un dibattito su come rivedere tutto quello insieme di regole economiche che da trattato di Maastricht in poi, incluso il Six Pack, il Two Pack, il Fiscal Compact, sono tante, il patto di stabilità e crescita, come andare a rivederle per migliorarne l'efficacia, valutare come hanno funzionato fino a oggi. Quindi è un momento molto molto importante. La comunicazione della Commissione chiaramente non dice quello che accadrà ma apre, come si dice, una consultazione che è partita questa settimana nel Parlamento ma che coinvolgerà molti altri attori, coinvolgerà gli stati membri, coinvolgerà la società civile, le università, l'accademia, gli esperti, le associazioni. Questa consultazione durerà per metà dell'anno 2020, quindi questa sarà la prima fase in cui si ricevono le proposte, dopodiché la Commissione dedicherà la seconda parte dell'anno poi a riflettere su come effettivamente poi andare a cambiare queste regole seguendo un po' anche i vari input che sono arrivati da tutti gli stakeholder. Quindi entro la fine dell'anno poi dovremmo avere la vera e propria proposta della Commissione su come intervenire su queste regole. È un momento importante, a volte forse è stato anche travisato, a volte ho letto sui giornali, adesso stracceremo le regole via il patto di stabilità e crescita. Questo non credo che sia un modo saggio di affrontare il problema, le regole servono in un'unione come la nostra, servono per una convivenza, per una convergenza economica, però serve anche riflettere su come aggiornare e modificare queste regole alla luce del nuovo contesto macroeconomico. Tante di queste regole le abbiamo introdotte anni e anni fa all'indomani della grande crisi economica e finanziaria, oggi è una situazione molto diversa, abbiamo delle nuove sfide davanti, delle nuove anche ambizioni, abbiamo il Green New Deal che vogliamo portare avanti e su cui abbiamo bisogno di fare più investimenti, quindi di creare degli spazi anche all'interno delle nostre regole per consentire ai Paesi di fare investimenti senza essere troppo frenati dalle regole. Queste chiaramente sono delle idee su cui stiamo ancora ragionando, però io penso che questa sia una grande opportunità per far sì che davvero dall'idea di regole che servono per garantire la stabilità, noi passiamo all'idea di regole che ci aiutano a sviluppare la crescita, la sostenibilità e un futuro migliore. Quindi nei prossimi mesi ci sarà questo processo, se avete idee, domande, curiosità, suggerimenti scrivetemi sui social o nelle mail e magari porteremo avanti questo dibattito. Grazie.